Ostia! Che è quello? Che è quello? Eh, non si! Ostia! E' quello che è normale! Però che coglia? Che carabinio passa qui? Ma è cago in diola! Però che carabinio sta passando qui? Ostia! Dabbe la occhia! Cago in diola! Amma! Amma! Ma che la radio fa? Marsella, deixa un pochino che stai. Grazie a tutti. Grazie a tutti.